l'immenso potere del catrame il catrame vita il catrame è gioia e noi grazie al catrame oggi insonorizzeremo quest'auto che bello questo catrame quando è morbido quando è caldo scaldato dal sole forse dovrei metterli al sole come si deve perché è diventato morbidissimo non siete d'accordo voi ma io so già che dopo aver fatto tutto questo il clima romperà il cazzo vedo due cose vedo che qua è tutto secco ma sostanzialmente l'antirombo più o meno c'è a parte queste parti questa è ruggine questa cosa andrà verificata ASAP andrà verificata ASAP va bene quindi qua eviterò di chiudere qui evidentemente come si suol dire ci dorme l'acqua che non è una cosa buona ma soprattutto devo pulire qua c'è un punto di ruggine va bene il discorso è un po più lungo verifichiamo ovviamente come era ovvio maledetto il è tornato il sole ma i nostri piani si fermano a causa di questi punti di ruggine ma soprattutto di questa fessura di ruggine con buchi che richiede sicuramente l'intervento di un carrozziere e quindi per il momento ci fermiamo qui io qua ho pulito ci mettere le mani il carrozziere è una cosa che si può sistemare abbastanza facilmente però di sicuro non piazzerò l'antirombo sopra la ruggine perché è una stronzata e quindi mi limiterò a sostituire adesso questa guarnizione oggi ho fatto qua sbagliando la misura leggermente ma alla fine va bene anche così e quindi ci siamo grazie